Dopo aver temporeggiato con gli ultimi giorni di riflessione, il weekend di Pasqua ha rotto gli indugi. Palmi Rucchielli decide di ricandidarsi al terzo mandato da sindaco di Vallefoglia, come vuole lo status del comune, tuttora di poco sotto a quota 15.000 abitanti. E come vedete sono pronto, sono disponibile, sono un combattente che ha sempre dato una mano per migliorare, per fare le cose importanti per la città di Vallefoglia. Quindi l'impegno mio è fare ancora di più e meglio, se gli elettori lo vorranno, se ci daranno consenso, la nostra è una lista civica di persone per bene, oneste, serie, che vogliono fare le cose per il bene dei cittadini. Poi inventeremo anche, diciamo, personalità nuove di gente che è disponibile a seguirci. Però a me quel che mi interessava è sapere cosa pensava la gente. Io ho chiesto a tante, tantissime persone e la gente mi ha, diciamo, virgolettato, istigato a dire ma dai, 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 dai una mano a questo territorio che cresce sempre di più in armonia con tutti gli altri comuni confinanti, compresa la città di Pesaro, con il quale lavoriamo in perfetta armonia. Lavoreremo insieme all'impresa, ai cittadini, agli operai, alla gente per bene che ha bisogno di un'amministrazione professionale, solida e forte e per questo facevo fatica a dire non ci sto, mi riposo, mi godo la vita. Forse riesco anche a godermi la vita facendo il bene alla mia città, che voglio bene perché sono nato e cresciuto in questa vallata, in questo territorio, e quindi se il popolo mi eleggerà farò di tutto e di più per non deluderlo come sempre. Uno sguardo al futuro del prossimo quinquennio amministrativo senza dimenticare la conclusione del mandato in corso, tant'è che l'annuncio di ricandidatura è arrivato a margine della presentazione degli investimenti che saranno realizzati con il milione di euro ricavato dall'ultimo avanzo di amministrazione. Dopo il precedente stanziamento canalizzato sulla riqualificazione del Palla Dionigi e ampliamento del Nido Pian del Bruscolo, ecco una pioggia di fondi dedicati a manutenzioni di strade, illuminazione pubblica, fossi e caditoie, nuovi marciapiedi, manutenzione di impianti sportivi, della piazza Marconi di Talacchio, del circolo sportivo di bottega, della mensa interaziendale di Talacchio. Stiamo lavorando fino all'ultimo giorno del mandato con il rispetto ai cittadini e agli elettori che ci hanno mandato a fare le cose. non è un caso che abbiamo chiamato Valle Foglia, la vallata del Foglia, la valle del Fare.